buongiorno a tutti sono francesco francesco dal piaz il country manager di italia e spagna per wacom sono qui per presentarvi wacom e le assicurazioni integrate wacom è un assicuratore digitale b2b2c europeo che fornisce prodotti assicurativi su misura ai suoi partner di distribuzione in modalità digitale e marca bianca oggi serviamo più di 140 partner di distribuzione in tutta europa in particolare brokers ed mga insurtech rivenditori marketplace fintech il loro minimo comun denominatore insieme al nostro è la volontà di plasmare l'assicurazione del domani ad oggi il nostro focus erano i prodotti danni tuttavia entro il 2022 ci allargheremo anche nel segmento protection vita malattia e finanziato siamo un solido assicuratore con una crescita profittevole attualmente supportiamo più di 440 partnership tra cui alcuni dei player più promettenti ed innovativi in europa come zego cuva boltec insure attraverso questi partner wacom è l'assicuratore in marca bianca di aziende come delivero uber dot revolut backmarket nel 2021 eravamo vicini ai 500 milioni di premi lordi crescendo a doppia cifra con due terzi della raccolta fuori dalla francia ecco adesso qui mi piacerebbe soffermarsi sulla nostra definizione di embedded insurance l'assicurazione integrata è solo una nuova parola d'ordine che sostituisce l'assicurazione dei gruppi affini personalmente non credo penso che ci siano delle differenze fondamentali nel modo in cui affrontiamo i gruppi affinitari e l'assicurazione integrata quando le persone di solito pensano l'assicurazione di gruppi affinitari spesso immaginano un processo di acquisto svincolato dal bisogno iniziale lungo e doloroso con molte domande senza la certezza alla fine di essere coperto mi piace pertanto la definizione del fondo horowitz ovvero l'assicurazione incorporata è un'esperienza cliente comoda e semplice con possibilità di opt out se necessario considerando che l'assicurazione dei gruppi affini è un'esperienza cliente di opt in molto dolorosa quindi ecco qui la definizione mia invece personale dove l'assicurazione integrata si finalizzerà solo quando vivremo in un mondo nel quale non ci si dovrà più preoccupare di acquistare un'assicurazione in quanto integrata automaticamente a prodotti e servizi posseduti o usati come ad esempio uno scooter in free floating un appartamento condiviso i biglietti eri o persino i gioielli di lusso non loggiati per una sola notte oggi però siamo lontani da tutto ciò il protection gap continua ad incrementare purtroppo alla luce anche del costante cambiamento che caratterizza questa particolare epoca storica della quarta rivoluzione industriale un'assicurazione integrata dovrebbe avere quattro caratteristiche facile da capire semplice da acquistare semplice da utilizzare come ad esempio le coperture parametriche che rappresentano la nuova frontiera delle assicurazioni e soprattutto non avere sorpresa l'assicurazione integrata ha ad oggi alcuni dati che sono accessibili grazie a quanto offerto dall'osservatorio assicurativo open and embedded insurance observatory dello scorso aprile in particolare è chiaramente un solido percorso di crescita infatti gli operatori delle assicurazioni integrate hanno raccolto 800 milioni di dollari nel 2021 ovvero il 19 per cento di quanto raccolto dall'insertec e si stima che fino al 20 per cento dei premi globali possono migrare sul segmento dell'assicurazione integrata al fine di farla diventare uno dei primi tre canali di distribuzione assicurativa solo ad inizio anno 130 miliardi di dollari sono stati investiti nello sviluppo di soluzioni assicurative integrate è davvero una grande opportunità di crescita che qualsiasi azienda dovrebbe abbracciare strategicamente ci sono quattro ingredienti che noi riteniamo essenziali per un'assicurazione integrata in particolar modo sono quattro ingredienti della cosiddetta ricetta segreta il primo ingrediente è la tecnologia con le moderne piattaforme digitali che sfruttano gli api e la block chain e che rendono facile le connessioni all'interno della catena del valore il secondo è una metodologia di processo di onboarding robusto e rapido per identificare e selezionare le giuste opportunità di business ed implementarle in modo molto flessibile ciò implica la selezione di prodotti trasparenti facili da capire e con reclami anche facili da valutare e risolvere il terzo ingrediente è il gameplay dell'ecosistema il quarto ed ultimo ingrediente è avere la giusta cultura un forte gusto per la continua assunzione di rischi e innovazione ciò comprende imparare ad essere audaci curiosi disposti a sperimentare e imparare e fallire velocemente abbiamo identificato sei categorie di assicurazioni integrate credo che nel lungo periodo questo tipo di assicurazione alla fine coprirà tutti i bisogni assicurativi a condizione però che i distributori possano abbinare l'assicurazione ai loro prodotti e servizi e per farciò la velocità di adozione sarà diversa e dipenderà dalla maturità delle aziende e dalla loro capacità di innovare abbiamo identificato sei categorie di prodotti assicurativi integrati personalmente credo che nel lungo periodo questa tipologia di assicurazione coprirà tutti i bisogni assicurativi a condizione però che i distributori possano abbinare l'assicurazione ai loro prodotti e servizi ma la velocità di adozione sarà diversa e dipenderà dalla maturità delle aziende e dalla loro capacità di innovare le sei categorie principali che abbiamo individuato sono le seguenti la gig economy come ad esempio sui lavoratori di delivero per il ride heading oppure i conducenti di uber e i loro passeggeri sulla mobilità attraverso le assicurazioni in self service degli scooters dot voi i viaggi dove l'assicurazione per il ritardo del volo il ritardo del traghetto integrata nella vendita del biglietto sul cliente quattro servizi finanziari dove un esempio è la parte con Revolut per la protezione degli acquisti dei clienti inclusa all'interno della carta premium e il quinto sono i retailers marketplace con Fnac e darti ad esempio come nostre partnership sulle garanzie estese e infine la casa in questa categoria abbiamo un prodotto molto innovativo e dirompente costruito insieme a Guz ID troverete molte informazioni su questo prodotto nel nostro sito web e quindi concludo augurandovi una buona giornata ringraziando di aver fatto parte di questa presentazione e con l'aspicio di vederci presto fisicamente durante l'evento dell'IA. Grazie